il film cionostante sin da venezia e girando per l'europa vinceva premi in tutte le rassegne cui ha partecipato è stato come messo all'oscuro insabbiato hanno cercato di nasconderlo come se desse fastidio anche ad ostia al cinemasisto hanno fatto di tutto per farlo togliere perché faceva cattiva pubblicità volevano negare l'evidenza che era il quartiere con la più alta densità di tossicodipendenti intimidazione o di minaccia cioè il film dice se non se questo film non vi piace se non siete d'accordo siete voi che sbagliate perché guardate quanta non c'è soltanto con noi non ci sono soltanto con i ragazzi delle borgate ci sono degli artisti degli intellettuali delle persone di grosso prestigio e quindi se vi mettete contro di noi probabilmente siete nel torno siete nel torno